Un imprenditore di 52 anni di acquaro è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal tetto di un cantiere in via Lucifero mentre stava eseguendo dei lavori. Sul posto è subito intervenuto un medico del luogo che ha prestato le prime cure. È necessario l'intervento dell'elisoccorso dove l'imprenditore, in gravi condizioni di salute, è stato trasportato all'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro ricoverato in neurochirurgia. A 14 e 12 anni di reclusione sono stati condannati Antonio Nesce e Raffaele Albanese nel processo di primo grado celebrato davanti al Tribunale di Reggio Calabria per associazione a delinquere di stampo mafioso. I due erano stati arrestati nel corso dell'operazione Elvezia, accusati di far parte di una locale attiva danni svizzera legata all'Andrangheta Regina. Il blitz portò allora al fermo di 18 persone e sempre nella città elvetica continuano a risiedere altre 16 persone sospettate di far parte della stessa cosca. Tre persone dai 31 ai 38 anni di mandatoriccio sono state arrestate dai carabinieri e posti ai domiciliari con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della stazione di Sersale in collaborazione con il gruppo operativo speciale di Vibo Valencia hanno arrestato un uomo di 50 anni residente nella cittadina presilana con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione personale e domiciliare effettuata in località Borda è stato trovato in possesso di 1,7 kg di mariana che è stata posta sotto sequestro. I militari dell'aliquota radiomobile di Corigliano hanno trovato e sequestrato in località Piscopello una cassaforte occultata tra la vegetazione contenente complessivamente 5 fucili e oltre 300 munizioni di vario calibro. Piscopillo Grazie a tutti.